La ferrovia ionica ha un bene comune, la battaglia dei cittadini e delle associazioni, iniziata dal 2012 per evitare che gradualmente la strada ferrata scompaia dalla costa calabrese ionica, si struttura sempre più. A Trebisacce, la rete delle associazioni della Sibaritide del Pollino, RASPA, ha richiamato alle armi, come precisa il portavoce Tullio De Paola, i sindaci affinché scendano a difendere in ogni sede l'infrastruttura e soprattutto il diritto delle popolazioni alla mobilità. Ormai stiamo parlando di un progetto che viene portato avanti in modo criminoso, direi io, perché qua stiamo andando a ledere un diritto sancito dalla Costituzione, praticamente all'articolo 16. Quello che noi chiediamo è che questa benedetta solidarietà non resti una solidarietà virtuale, da esprimere con i mi piace di Facebook e basta, o con una solidarietà che si limita alla setta di mano, ma che diventi comunque una cosa fattiva e ci si unisca a noi anche altra gente, anche perché questi benedetti treni non li prenderemo noi, ma ci auguriamo che li prendano tutti. A supportare la battaglia hanno raggiunto gli associati di RASPA, i sindaci dell'Alto Ionio e i cittadini, due tecnici che hanno messo a fuoco con precisione limiti ma anche opportunità della ferrovia ionica. L'ingegnere Roberto D'Ammicco, di Ferrovie dello Stato, parlando a titolo personale, non ha mancato di evidenziare i tagli e lo stato di abbandono della ferrovia ionica. La ferrovia ionica è oramai in uno stato un po' di abbandono rispetto alla potenzialità che comunque potrebbe esprimere. Ovviamente io ho sempre un'idea che la risoluzione di questi problemi vada vista un po' in maniera sistemica. Prima di venire qui mi sono un po' documentato su quello che è stato, ad esempio, in questi ultimi decenni la riorganizzazione del sistema amministrativo. Leggo che si sono persi 17.000 posti di lavoro in ospedali, scuole, riorganizzazione delle scuole. È ovvio che questo non può che riflettersi negativamente anche sul numero delle persone che sente e che ha stretta necessità di muoversi. Il problema è che Ferrovia dello Stato fino a qualche tempo fa, con una copertura finanziaria a tutto tondo, riusciva a coprire comunque l'esigenza di pubblica utilità della movimentazione, in particolare le persone, senza dover rigorosamente rispettare conti economici. Oggi questa cosa incomincia a essere pressante da un punto di vista dei bilanci, per cui Trenitalia, che so per un dato concreto, visto, riceve dalla regione 80 milioni di euro complessivi, annui per la mobilità su ferro, che so ha una certa funzione efficace nella zona di Reggio Calabria, ma in poche altre zone, dovrebbe essere pungolata dalla regione, voglio dire, assicurare un trasporto che risulti essere efficiente, tocca la qualità di vita delle popolazioni e dire anche, a questo punto, le attese di vita di chi risiede in queste zone. Diciamoci che deve essere una scelta politica a monte. Deve esserci una scelta politica a monte, ma questa scelta politica ovviamente va sostenuta in primis dalla popolazione, che deve ritornare non ad essere brava ad adattarsi alle modifiche che vengono un po' calate come dogmi dall'altra, ma deve essere coinvolta in maniera progettuale su quella che è la scelta da farsi sui territori, in maniera, diciamo, più completa su quello che è proprio la quotidianità dell'organizzazione dello Stato sociale. Il professore Domenico Gattuso, dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria e del comitato che ha lanciato la petizione anche online, spiega cosa si può fare per rilanciare la ferrovia ionica. Si può fare molto e si può fare con risorse limitate, purché ci sia una volontà politica vera, non dichiarata. Non si tratta di impegnare rilevanti risorse finanziarie. Noi abbiamo stilato una petizione popolare che è stata firmata già da migliaia e migliaia di cittadini su tutta la fascia ionica, in cui ai primi punti abbiamo posto la necessità di acquistare dei treni da parte della Regione Calabria, treni che siano di proprietà della Regione e non di ferrovia dello Stato, perché altrimenti la Regione subisce sempre i diktat dell'operatore, mentre la Regione deve giocare un ruolo da protagonista. Comprare 10 treni significa spendere 50 milioni di euro, quindi una cifra assolutamente abbordabile se si ha la volontà politica di farlo. In secondo luogo abbiamo chiesto di salvaguardare la linea e di, anzi, rimetterla a posto perché in alcuni punti comincia a denunciare delle criticità. Quindi bisogna fare una manutenzione, bisogna ripristinare i servizi laddove mancano. In terzo luogo pensiamo, per esempio, alla necessità di rimodulare il programma di esercizio, che vuol dire offrire dei servizi che siano allineati alle esigenze della comunità. Tra questo c'è la necessità di rinforzare le corse lungo la Ionica, con treni, come dicevo prima, di qualità, garantendo le coincidenze, garantendo un'accessibilità facile, per esempio attraverso degli autobus, che non facciano la concorrenza al treno, ma al contrario siano complementari, in un ragionamento che tutti condividono, anche i politici, a parole. E nello stesso tempo pensiamo anche al ripristino di servizi di media e lunga percorrenza. Faccio un esempio. Andare da Torino a Trieste, a Venezia, è facilissimo. In un'ora e mezza, due ore, si va da una parte all'altra di una regione del Nord Italia e una regione del Nord Italia. Da noi a sud questo è impossibile. Andare da Reggio Calabria a Bari a Lecce significa impegnare 11-12 ore, il che è paradossale. Per giunta non in treno, perché a Sibari la ferrovia muore. Bisogna scendere, fare un cambio, prendere un autobus, cose incredibili e non accettabili. Si sa che su viaggi dell'ordine di 5-6 ore, peggio ancora per viaggi di 10-11 ore, il treno è meglio, è preferibile all'autobus, è più sicuro, è più confortevole, consente di relazionare con gli altri, ha tutta una serie di vantaggi. Non inquina, non ci sono rischi seri per chi viaggia e si può viaggiare anche in modo più sereno. Bene, noi rivendichiamo anche il ripristino di linee e di servizi ferroviari di media percorrenza del tipo Reggio Calabria-Bari o addirittura Reggio Calabria-Bologna, Reggio Calabria-Torino, perché no? Come avveniva una volta, ma con treni migliori rispetto a una volta. Questa partita si gioca a scala nazionale, perché è chiaro che non è un fatto di esclusiva competenza della Regione, ma la Regione ha un ruolo attivo, dovrebbe avere un ruolo attivo. Noi non accettiamo la logica della Regione Calabria che è riduttiva, ovvero poche risorse, ne avrò sempre di meno perché a livello nazionale tagliano le risorse per il trasporto pubblico locale e quindi in un'ottica da commercialista si riducono i servizi. Al contrario, bisogna rivendicare che per la Calabria e per le Regioni del Mezzogiorno in generale si adottino gli standard di qualità europei, non dico nazionali, addirittura europei, ovvero la garanzia, per esempio, sancita dalla Commissione europea nei libri strategici di programmazione che con un viaggio di massimo mezz'ora un cittadino qualunque, compreso un cittadino calabrese, rimarco, deve poter raggiungere una stazione ferroviaria. Quindi mezz'ora significa che se noi perdiamo la ionica, perché io ho il timore che si stia lavorando in maniera subdole e scientifica per la cancellazione dell'intera linea ferroviaria ionica, è evidente che noi in mezz'ora non raggiungeremo più la ferrovia da nessuno di questi comuni. Allora ci sono comuni straordinari sulla ionica che hanno delle potenzialità e spesso si parla di turismo, ma nel momento in cui togliamo gli aeroporti, togliamo le ferrovie, togliamo i servizi essenziali, noi stiamo condannando questa regione e non ci convince assolutamente poi la propaganda in base alla quale si associerebbe lo sviluppo del turismo in Calabria ai campi da golf. Abbiamo bisogno di cose più serie, più abbordabili, meno costose e fattibili in tempi brevi. Se c'è una seria volontà politica ci si può arrivare. Per questo stiamo aggregando decine di sindaci e decine e decine di associazioni e movimenti. Insieme possiamo farci.